Il Carbon Copy Bright di casa MXR è una variante al noto Carbon Copy, ormai in produzione da tanto tempo, questo è il suo fratellino più recente che mantiene tante caratteristiche del Carbon Copy originale, ma semplicemente, come suggerisce il nome, ha delle ripetizioni più aperte. Quindi per chi desidera il calore del Carbon Copy, ma con delle ripetizioni da un tono un po' più aperto, con un po' più di alte, senza esagerare, perché comunque rimaniamo sulle caratteristiche di un delay completamente analogico quale il Carbon Copy Bright è, e condivide tutte le altre caratteristiche con il Carbon Copy originale. Quindi, tre controlli rotativi, come sempre troviamo delay che determina la velocità delle ripetizioni, 600 millisecondi è il massimo della distanza delle ripetizioni che possono avere, poi chiaramente con il controllo rotativo troveremo la nostra regolazione ideale, controllo di mix che miscela il suono dry dal suono effettato, regen che controlla la quantità delle ripetizioni che voglio avere, fino ovviamente a mandarlo in auto-oscillazione quando i controlli sono un po' estremizzati, come succede con i migliori delay analogici. Controllo MOD, attivabile da questo pulsante bianco, con tanto di LED che ne certifica l'attivazione, che serve per attivare la modulazione sulle ripetizioni, quindi lasciando sempre il suono principale pulito, il suono principale senza modulazioni, ma andando ad agire solo sulle note ritardate dal delay stesso. Come di consueto pulsante che attiva l'effetto o lo disattiva completamente con la funzione true bypass e LED di status del delay, input, output e come di consueto ingresso per alimentazione a 9V qualora non si voglia utilizzare la batteria che è possibile inserire smontando il pannello posteriore. Sempre sul pannello posteriore smontandolo troviamo le due regolazioni per regolare la modulazione. Infatti il pedale come vediamo è stato lasciato come del resto del suo fratello, molto pulito nella parte principale. Se voglio andare ad agire sul rate e sullo speed della modulazione posso farlo agendo sui due controlli rotativi che trovo all'interno. Passiamo adesso al test audio Carbon Copyright di MXR. 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 A presto A presto A presto A presto A presto